Buonasera a tutti, bentornati a Pallovale, il nostro settimanale di rugby, sempre qui dalla Clubhouse dello Zaffanella, Venteacqua, siamo qui a commentare ahimè l'ultima battosta degli Aironi in terra scozzese 50-10 contro l'Edimburgo, ne parliamo con Alessandro Soragna, ciao Alessandro, ciao Enrico, un saluto a casa, e con Luigi Malaspada, grazie a essere qui, giornalista e addetto stampa del Viadana Rugby, quindi con te parleremo anche dei giovani di Viadana, andiamo a vedere subito però questi risultati di questo fine settimana, l'ultimo vediamo appunto dalla grafica che adesso andrà in sovrimpressione, la vittoria dell'Alster 24-17 contro gli Scarlet, la vittoria esterna ancora di Treviso 13-15 in casa del Connacht, la sconfitta 50-10, Edimburgo vincente appunto sugli Aironi, altra larga vittoria dell'Einster 52-9 contro i Blues, poi abbiamo altra vittoria casalinga, gli Ospreys 19 contro i 13 punti del Munster, sconfitto e poi il pareggio 14 pari, i Dragons in casa contro i Warriors che andavano a fare loro visita. Risultati che portano appunto a questa classifica che vede il Leinster da solo in testa, 35 punti, uno solo sopra gli Ospreys 34, viene poi a seguire il Munster con 29, Glasgow Warriors a 28, i Cardiff Blue sono a 25, una partita sempre in meno. Il Treviso sale al sesto posto in classifica con 23 punti, Scarlet 22, 21 l'Alster, 19 punti l'Edinburgo, a 16 punti il Connacht, i Dragons anche loro la partita in meno che devono recuperare con Cardiff sono a 12 e siamo poi gli Aironi fermi a 6 punti. Dicevamo appunto di questa sconfitta in terra scozzese, andiamo a vedere adesso le immagini, abbiamo preparato un'ampia sintesi grazie alle immagini che abbiamo riuscito a ottenere dallo staff tecnico. Alessandro abbiamo detto ha giocato al Murrayfield, davanti a circa 4 mila persone, vediamo di far partire adesso le immagini, una sconfitta maturata nella sua anche ampiezza già dal primo tempo mi pare. Sconfitta molto pesante, vediamo intanto il kick off, ci sono gli Aironi che si presentano in campo contro Vizan, si noti, Pratichetti, Pizarro, Venditti, Olivier, Tebaldi, Sol, Ferrarini, Cattina, Biagi, Gialdenais, Taibano, Santa Maria e De Marchi, ci sono già gli scozzesi che premono sull'acceleratore, vediamo che partono già, giocano subito alla mano dai propri 22, anzi proprio dalla ricezione del calcio d'inizio, ancora gli scozzesi che riescono a trovare la linea del vantaggio, sempre buona l'azione e c'è già un fallo ravvisato. Siamo al settimo, c'è un fallo e credo che qua decidano appunto di calciare, guardate cosa succede. L'Aidlo va dalla piazzola, il pallone è corto, Sinotti cerca la presa ma commette un in avanti, sono più reattivi gli scozzesi che poi aprono qui sulla sinistra e poi Dent va a schiacciare la meta, quindi inizio direi fulminante, no Luigi? Sì, sembra proprio che gli eroni in questi frangenti iniziali della partita abbiano dimenticato quello dello spirito con il quale si scende in campo, almeno a giudicare dalle errori che hanno fatto e anche dalla incapacità di reagire immediatamente all'errore subito che ha permesso poi ai palloni di casa di andare in meta con una estrema facilità grazie a un sostegno, un'organizzazione assolutamente di un altro livello, così come in questa azione vedo la facilità di gestire l'ovale e poi di andare a segnare ulteriormente, mi sembra Visser questo Sì, il long pass di Leonard va a trovare Visser che è un armadio che corre come una scheggia Da quarta d'ora qua, giusto vero? Esatto, e poi Leidlo ancora preciso dalla piazzola, nella caduta ha toccato con l'ovale terra quindi non annulla la corsa in mezzo ai pali, però la precisione della piazzola di Leidlo è ancora sicuramente ottima Ottima, ancora un errore da parte degli Aeroni, in questo caso è Venditti che è un po' forse pigro nella raccolta di questo vale concede questa mischia ordinata con l'introduzione appunto agli scozzesi, Leidlo apre per Leonardo ancora si va per vie centrali, bello il buco di Visser che va a trovare una bella breccia nella linea difensiva degli Aeroni Meta però mi sembra un po' troppo facile Si è inserito dal lato, l'ala insomma dal lato chiuso, si è inserita e ha trovato il buco, no? Non solo Meta troppo facile ma anche la reattività come dicevamo prima degli Aeroni che è inesistente quindi è strano anche l'errore di Venditti che tra l'altro non aveva fatto una brutta partita Un'ottima partita giocata a Cardiff E quindi a questo punto sembra che ci sia anche dei grossi problemi di testa dal punto di vista dell'organizzazione e della coesione della squadra In questo caso invece ci mette una pezza Trevisan che riesce ad annullare però era un'altra azione molto molto pericolosa combinata bene al piede con un grabber che va andato a tagliare la difesa degli Aeroni Bravo ed attento in questo caso l'estremo ex Sandonà Qui rivediamo una partenza degli Aeroni Una delle poche, forse la prima volta in cui riescono ad entrare nell'area dei 22 scozzesi E' Tebaldi che trova questo bel break Poi viene però portato in fallo laterale E' da questo Tusch che nasce poi la meta degli Aeroni Vedete che appunto fanno raggruppamento l'Edimburgo per il calcio di liberazione che viene stoppato da Biagi che riesce a schiacciare in meta Biagi che è una delle note liete dell'inizio di stagione degli Aeroni Sì decisamente E lei non ancora... No questa volta scusate è Olifier che colpisce il palo E quindi non c'entra la trasformazione Quindi non porta i due punti supplementari per gli Aeroni Ancora una ripartenza da parte degli scozzesi Quanta strada che fa il portatore di palla E poi buon riciclo per il primo centro Che viene abbattuto circa 7 metri dalla linea di meta Ancora l'Edimburgo che va avanti con il pilone Jakobsen Siamo ormai sulla linea dei 5 metri Si torna per vie centrali Buona questa volta la difesa portata alta da parte degli Aeroni Quindi un possesso che arretra per quel che riguarda l'Edimburgo Ma poi c'è il fallo, un ingresso laterale O forse meglio un fuorigioco ravvisato E costa il giallo a Tebaldi A Tito Tebaldi E poi questa volta l'Eidlo va per i pali E c'entra quindi tre punti per la franchigia scozzese Sì, sembra Luigi Sembra che la costante peraltro anche di queste ultime gare Sia il fatto che non abbiamo assolutamente possesso Nel rugby una delle cose fondamentali È un'altra cosa fondamentale Una volta che ha avuto il possesso è avanzare E comunque cercare di guadagnare il terreno Per poi portare i pericoli alle difese adversarie E qui c'è lo splendido riciclo fatto per De Luca Che poi trova un'autostrada fino alla meta Per la quarta meta Quindi il punto di bonus per l'Edimburgo Rugby Che ricordiamo nella gara d'andata Aveva concesso la vittoria agli Aeroni qui allo Zaffanella Questa volta sono gli Aeroni che provano a fare strada Mi sembra essere Pizarro questo che riesce a trovare a fare strada Ma Ovale che viene perso con però un fallo Però per un fallo E in questo caso è l'Osada No, Gil Christ che viene ammonito E quindi dieci minuti in inferiorità numerica per l'Edimburgo Sì, questo credo siano poi gli ultimi minuti del primo tempo In cui gli Aeroni cercano insomma di riavvicinarsi nel punteggio Anche appunto approfittando del fatto del cartellino giallo agli avversari Esatto In sostanza giocano credo 14 contro 14 in questo momento C'è questa bella iniziativa con Sinoti lanciato verso la linea di meta Siamo subito dopo i 5 metri Si riapre ma la difesa scozzese è attenta Ancora che si ripiazza dietro il raggruppamento Sinoti Pronto a ricevere l'ovale Un po' lenta l'uscita Vediamo che il mediano di mischia in questo caso è Tognolatti Visto il cartellino giallo a Tebaldi Si riprova ancora con un pick and go assistito Siamo ormai a pochi centimetri dalla linea di meta C'è battaglia serrata in trincea Vediamo come si provano a ridistribuirsi gli scozzesi C'è questo tentativo di Galdana È veramente vicinissimo alla linea di meta Non riesce ad allungare il braccio E poi c'è appunto questa difesa serrata degli scozzesi Che consente alla formazione di ritornare in possesso Se non voglio spezzare una lancia a favore degli aeroni a tutti i costi Però mi sembra anche in diverse occasioni Anche un pizzico di fortuna o più non sarebbe mancata Sì effettivamente è questione di centimetri La questione di centimetri c'era secondo me anche Per cui c'era in balzo giusto Una difesa al limite del regolamento L'abbiamo visto ma comunque tant'è che Fanno le spese sempre gli aeroni Questa è la prima meta del secondo tempo Con Vissera che mette il suo at-trick Sì esatto la terza meta credo E Leningburgo che comunque non accenna a fermarsi E' vero che ecco l'altro calcio presa al volo Altra meta E siamo dunque se non sbaglio Vediamo il ventesimo credo con Jones Bellissimo apertura al piede Calcio passaggio al piede di Leidlo Che è stato precisissimo Mentre invece in precedenza Era stato Leonard a trovare Visser lungo l'out di sinistra Con Edimburgo che preme Non vuole considerare niente Questo è il secondo giallo credo a Tognolatti Questo è il giallo rifilato a Tognolatti E quindi i aeroni che si troveranno ancora in uno in meno Qui c'è una buona touch portata giù da Biagi se non sbaglio No forse era Bortolami in questo caso Si è subentrato Sì esatto Hanno colto decisamente l'attimo La meta di Leg viene trasformata da Brown Per il 55 momentaneo E poi vedremo che ecco da questa azione insistita Per gli aeroni sono rimasti in zona per un paio di minuti Se non ricordo male raccogliendo anche un paio di punizioni Tra cui questa che costa il giallo a Gil Christ Qui peraltro anche si vedeva bene Le immagini sono fermate Ma ecco che rientrano Si vedeva bene l'opera L'ausilio di Perugini Il peso che ha dato anche in questi punti di incontro Sicuramente Perugini ha quel valore aggiunto Poi entrando da fresco riesce a ottimizzare al meglio la propria azione E qua è proprio Ferrarini E qua è la meta di Ferrarini Che appunto fisso sul 50-10 Perché poi vedremo che il tentativo di trasformazione di Tebaldi Non va a buon fine Eccole qua Esatto E mancano Un'altra costante è anche l'imprecisione ai calci I nostri calci che non entrano E qui siamo al 78 In sostanza non succede più nulla Man of the match ovviamente Visser Anche in virtù delle tre mete Ma non solo Perché ha messo lo zampino in meno altre due È sicuramente un atleta prepotente nella forza fisica Ma anche bravo a trovare linee di corsa È tecnicamente molto valido Olandese Anche se è procinto di diventare Ailander Sì si parla anche di questo Esatto In una sua possibile naturalizzazione No credo Luigi allora Viste queste immagini Che squadra vedi tu Dopo entrata in un tunnel di questo tipo In sostanza tre partite Le ultime tre Più o meno che hanno visto La costante insomma Di prendere tanti Troppi punti al passivo E pochissimi all'attivo Sì in effetti Adesso è difficile Non è difficile Fare un discorso Di un certo tipo Un po' come sparare sulla croce rossa Sì A questo punto direi di sì Direi che la situazione è Imbarazzante Per non dire di peggio Evidentemente c'è un discorso Da affrontare su vari livelli Sì Sia per quanto riguarda L'impegno dei giocatori E con l'impegno dei giocatori Ci metto dentro anche Quello dei nazionali Che sono rientrati Dopo i mondiali E da quel momento Non si è visto Quell'atteggiamento Che invece avevamo notato Nelle prime 4-5 partite Del torneo Dove in effetti poi Gli aeroni erano riusciti anche A vincere bene in casa Una partita E comunque A portare a casa delle sconfitte Più che onorevoli Lottando E comunque dimostrando Di avere un impianto O comunque qualche cosa Che tecnicamente Poteva fare ben sperare Per il futuro Poi c'è stato Questo improvviso blackout Quindi il ritorno nazionale Che sta durando un po' troppo tempo Che sta durando Perché non è ancora terminato Che corrisponde Se vogliamo anche Con questo filotto di trasferte Tre trasferte terribili E quindi Parliamo di Clermont Di Cardiff E questa Di Edimburgo Forse questa di Edimburgo Non era così Terribile Certo Almeno sulla carta Però sappiamo bene Che loro sono scesi in campo Con la miglior squadra A disposizione Anche per cancellare Se vogliamo Tra virgolette L'onta Ricevuta nella gara di andata Senza altro problema Se mi permetti Che è un atteggiamento Tipico di chi ha Il rugby nel sangue Cioè è chiaro che Affrontare una squadra Qualsiasi squadra Se tratti Che ti ha battuto Diventa uno stimolo Incredibile Cosa che purtroppo Alie Aroni Sembra mancare Per tutta una serie Di motivi Perché avrebbero lo stimolo Contro quasi tutti Avrebbero lo stimolo Tutte le volte Che devono giocare Questo è evidente Ma almeno Dovrebbero dimostrare in campo Di voler Fare qualche cosa Purtroppo L'impegno Non viene Viene meno Non è all'altezza Di quello che ci si aspetta Di quello che possono dare Secondo me I giocatori Che insomma Tutto sommato Vanno a parte Di una franchise Sono professionisti E quindi Ci si aspetta da loro Sicuramente qualcosa di più